Ciao a tutti, oggi andiamo a Roma C'è i biglietti tu? Andiamo, si sa, da Gales Dopo, ciao! Non stop! Non stop! Non stop! Non stop! Noi, ma cammina da solo questo pavimento Ma, ma È tipo una scala mobile, però Non sale, non scende Attenzione, i bagagli fuori misura Ecco qua, uno e due Wendy, sta partendo il treno? Sì! Stai partendo, Wendy, tieniti, tieniti Wow, Wendy! Ali saluta Stai partendo Buono, Wendy? Mangia, mangio Brava amore Gina, 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 gina Gina, gina, gina Prendi guarda papa Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Vai, esprimiamo il desiderio e lancia. Pronti, partenza via, tirate il soldino, tira, tira. Tira. Brava! Guarda, una scena, sono tanti, guarda. Guarda, 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 c'è una porta, guarda, c'è una che buona per qua. Ciao! Ciao, che bello! Mi chiamo con un po' con i mucini, che bello! Tira un altro, allora, ti, tarallino. Buona? Buonissima. Buonissima. Meno male. Vedi che ti hanno regalato? Il gelato? Quello si può portare dentro, ci metti le caramelle, le cose, vero? Wendi, ma di scrivere, Wendi. Che te l'ha dato, signora. Buonissima. 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 no Grazie a tutti. Ti prendi, ti prendi. Stanche? Ti prendi, ti prendi, ti prendi. 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 Grazie